Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Oggi un altro lutto ha colpito il mondo del cinema. È venuto a mancare all'età di 65 anni. Un altro grande attore. Lo abbiamo apprezzato e conosciuto tutti. Chi è l'attore che ci ha lasciati? In molti lo conoscono principalmente per i suoi ruoli nelle serie TV come Law e Order. E il soprano. Lo abbiamo visto anche nel famosissimo film, Million Dollar Baby. Anche Al Pacino ricorda il suo amico. E lo fa con queste parole. Gli volevo un gran bene. Le sue performance erano sempre scintillanti e scoppiettanti. Erano davvero una gioia incredibile da guardare. Ci mancherà tantissimo. Come riporta anche People, l'attore è morto lo scorso sabato. Si trovava in ospedale. Per cause che non sono ancora state rese note. Tuttavia la notizia è arrivata solo in queste ore, quando la moglie Carol lo ha rivelato al New York Times. A lasciarci è Bruce McVitie, morto il 7 maggio. Il suo nome resterà per sempre nella storia del cinema. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.